Il sitaco di Chieti Umberto Di Primio ha le prese con la possibile vendita della piscina e rimpasto della giunta comunale. Sono atti che il primo cittadino vuole porre in essere per cercare di far quadrare i bilanci del comune e per scongiurare il dissesto finanziario dell'ente e mantenere saldi gli equilibri interni all'esecutivo. Il 2019 si aprirà con la messa in vendita dello stadio del nuoto? Sì, è uno dei provvedimenti che abbiamo intenzione di fare. Dopo la fallita vendita della farmacia per delle questioni politiche che costeranno tanto ai cittadini di Chieti, adesso proveremo a mettere in vendita lo stadio del nuoto. È qualcosa che già è stato fatto in altre città, noi la facciamo perché abbiamo riscontrato che lo stadio del nuoto gestito direttamente dal comune per quanto abbia una qualità oggi di servizio non ha una possibilità invece di rientrare nei costi. Quindi abbiamo intenzione di venderlo, di vendere l'intero impianto e ovviamente di dare la gestione all'esterno. È uno dei provvedimenti che dobbiamo fare necessitati dalla scarsezza di risorse nel bilancio comunale e dalla volontà di non lasciare che il comune cada in una situazione di maggiore difficoltà economica ma che invece abbia una chance in più per continuare a erogare servizi, per continuare a erogare servizi di qualità in favore dei cittadini. Quanto frutterebbe questa vendita e soprattutto consentirebbe di evitare un predissesto finanziario dell'ente? Stiamo facendo la stima tecnica dell'immobile perché ovviamente oltre al valore del bene vi è anche il valore dell'attività che vi viene svolta. Appena avremo i dati saremo in grado di iscrivere questa vendita nel nuovo DUP, cioè nel documento unico di programmazione economica dell'ente e in quel caso potremo sì partire con un'eventuale vendita. Si parla di rimpasto in giunta dell'ingresso del consigliere Diego Costantini. Ci conferma questa indiscrezione? Le confermo che è mia volontà di rivedere la giunta, rivedere sicuramente le deleghe, è necessario dare uno scossone alla giunta perché tutti dobbiamo fare di più se vogliamo che le cose vadano per il verso giusto e vadano anche meglio e ho intenzione ovviamente di allargare la giunta, ho la possibilità di portare la giunta a 10 persone, fino adesso non l'ho fatto quindi è possibile che io inserisca un nuovo assessore così come è possibile che vediamo, stiamo valutando anche con i partiti e è possibile anche che possa eliminare uno degli attuali assessori per introdurne uno nuovo in giunta.